Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi sono qua con il piccolo Pietro che semplicemente sta aspettando la pappa perché sono le 12 circa ci avrà poco, saranno le 12 e quindi lui mangia alle 12 e niente, questa sarà appunto la routine della pappa per Pietro e niente, spero che lo appreziate come video è un video molto corto ma credo che sia divertente e poi vi volevo alla fine del video, restate fino alla fine del video perché vi comunicherò una specie di sorpresa poi capirete meglio comunque adesso andiamo a preparare la pappa a Pietro lui mangerà della crema di riso adesso vi mostro tutto userà questo piattino della Neo Baby con questo cucchiaino dell'Ikea e questa sarà la crema di riso che adesso andremo a preparargli questa è la crema di riso biologica della umana quindi niente, adesso andiamo a prepararlo a dopo a dopo Grazie a tutti. 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 La novità che vi volevo dire è che ho fatto un acquisto davvero molto speciale e mercoledì uscirà il video sul canale, quindi state attivi perché è una cosa davvero bellissima e molto speciale. Ciao! Ciao!